buongiorno questa settimana facciamo l'oroscopo con l'arcangelo gabriele essendo la settimana di pasqua uso questi allora questo va dal 29 marzo al 4 di aprile allora partiamo che segni di terra toro vergine capricorno allora per i segni di terra l'angelo gabriele vi dice parla in pubblico ai messaggi importanti che pensano che possono aiutare gli altri questo è il messaggio per i segni di terra poi passiamo ai segni di aria gemelli bilancia e acquario vediamo se prende ok motivazioni questa settimana l'angelo vi dice prega per ricevere maggiore concentrazione ed entusiasmo riguardo al tuo progetto poi passiamo ai segni di acqua cancro scorpione e pesci scusate l'angelo questa settimana vi dice gratitudine attrai sempre più cose belle nella tua vita quando apprezzi quelle che già possiedi questo è il messaggio per i segni di aria e passiamo ai segni di fuoco che sono ariete leone e sagittario allora l'angelo vi dice questa settimana ostacoli rimossi le difficoltà derivate dalla paura non ci sono più sono state eliminate dunque questa settimana sono state superate sono stati superati alcuni ostacoli speriamo bene in questo periodo specialmente essendo poi la settimana pasquale con questo vi auguro una felice settimana e alla settimana prossima